Buongiorno e bentrovati con Mattino 6. Buongiorno in questo lunedì 7 dicembre, un lunedì che come sempre sfrutteremo in questa ora mattutina per rivedere i servizi principali delle partite che si sono giocate ieri. In un weekend nel complesso negativo perché in Serie B il Lanciano ha perso e il Pescara ha pareggiato ma è un pareggio che sa tanto, tantissimo. Di Beffa sconfitte per le due cugine di Lega Pro e anche in Serie D la vittoria è mancata con il pareggio del Chieti, le sconfitte di Giulianova e San Nicolò e il Pari. Nel confronto tutto abruzzese tra Amiternina e Avezzano per il basket da un lato c'è il momento straordinariamente positivo della McEnergy Roseto, dall'altro invece continua ad essere un momento nero per la Pro Gerchieti che ieri ha perso ancora una volta in casa contro Re Canati. Iniziamo con le prime pagine delle testate nazionali, la prima parte, la primissima parte dedicata alla cronaca, poi come sempre tanto sport, Corriere della Sera, l'onda Le Pen sulla Francia. Sarkozy rifiuta patti ai balottaggi, l'EPS ritira i suoi dove non può vincere Marine e Marion, oltre il 40% front nazional, primo partito, Parigi ai repubblicani. Questo appunto è il risultato delle amministrative di ieri in Francia. Milan solo pari, cade il Napoli a Bologna, l'Inter in testa da sola, Fiorentina ok. E seconda, il libro, la storia, una vita da rivela, il ragazzo che si premiò con una Fiat 1300. Poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, il prezzo dei voti, le riforme che forse non avremo. La fotonotizia, un'intesa sul clima per i bambini, Papa Francesco, vigilia del giubileo. Appello a Parigi. Poi in basso il discorso, Obama parla alla nazione in tv, nessuna paura, batteremo l'Isis, il presidente, dallo studio, vale come nei momenti storici. E poi cambia il sindaco, l'eco città si ferma, tutto pronto per il piano tedesco da 350 milioni, solo che la neo giunta di Segrate dice di no. La prima pagina della Repubblica, chiaramente il risultato delle amministrative in Francia guadagna grande spazio, grande attenzione. L'apertura della Repubblica a Francia, lo shock Le Pen. Il FN trionfa, primo con il 29% ed è in testa in 6 regioni su 13. La leader ora pensa all'Eliseo, il PS sotto nell'Ile de France per battere l'estrema destra. Siamo pronti alla desistenza. Sarkozy si ferma al 27%, il paese indietreggia, domenica niente accordi. Poi l'editoriale, la paura nelle urne, proprio a commento delle amministrative di Francia. In basso, discorso alla nazione Obama, distruggeremo lo Stato islamico. La guato in metropolitana, Londra vive l'incubo dei lupi solitari. Poi l'Italia guida la caccia alla materia oscura. E poi, per quanto riguarda il calcio, il Napoli cade a Bologna. Ora l'Inter è sola in testa. Prima pagina del giornale. Elezioni in Francia, il voto umilia la sinistra. Il trionfo della Le Pen, il front nazionale e il primo partito davanti a Sarkozy. Storico schiaffo ai socialisti di Hollande, che sprofondano il terzo posto. Poi, Fai da Rossa, Milano coltelate tra i compagni. Adesso, Pisavia attracca il Premier. L'appunto, fanno appelli sulla consulta. Poi la Camera va in ferie, 11 giorni. I fallimenti del governo Berlusconi, il disastro sulle banche. Intanto Renzi vuole mettere le mani anche sui piccoli istituti di credito. La prima in una scala blindata, nella fotonotizia. E poi in basso, Scalfari sbianchetta, calabresi. Lasciamo la prima pagina del giornale. Andiamo con la prima del Fatto Quotidiano. La Le Pen ringrazia il califo. Al regionale, il front nazionale diventa primo partito intorno al 30%. E poi, la storia di Copertina, sono imam, vi dico perché, come si diventa guida spirituale dell'Islam, quanti sono, dove sono, a chi rispondono, cosa dicono e quanti fedeli hanno. Le risposte sulla comunità musulmana in Italia. Poi, a Roma, il risparmiatore a Montecitorio, noi distrutti dalle banche, in piazza centinaia di vittime del salva istituti. Renzi non è riformista e ha salvato il giaguaro. Pierluigi Bersani, incontro con l'ex segretario. Andiamo a chiudere questa parentesi con la prima pagina del messaggero, che, insomma, anche questa testata dà spazio e apertura ai risultati delle amministrative in Francia. Francia, la paura premia Le Pen. Elezioni regionali dopo le stragi per l'exit poll, il front nazionale primo partito, Male, Hollande, Sarkozy, Marin, rialziamo la testa, successo anche per la nipote Marion, nodo alleanze per il secondo turno. Sotto la testata, l'intervista a Montezemolo, i giochi del 2024, occasione unica per Roma, calcio, Roma, pallotta, snobagazia, Lazio, lotito, conferma, pioli. L'editoriale di Alessandro Campi, ma la vittoria del front ha radici profonde, i motivi del trionfo. La fotonotizia, dopo gli attacchi di lupi solitari, Londra e Washington è allerta contro il terrorismo, fai da te. Di spalla, giubileo blindato, arrivi in calo, Gabrielli impegno al massimo, domani l'apertura della Porta Santa, meno presenze del previsto. Attenzione alla Camera, banche fallite, si ha al fondo rimborsi, ma c'è il rischio bocciatura dell'Unione Europea, magistrati e caos sui pensionamenti. Ora iniziamo la parte della rassegna dedicata ai quotidiani locali, con la prima pagina del centro. Scosse nel mare davanti all'Abruzzo, la più forte di magnitudo 4.3 alle ore 17.24, avvertita sulla costa. Poi centro la fotonotizia, America Graffiti, in arrivo altre 10 assunzioni, centinaia in coda per la festa di inaugurazione. Dal 14 dicembre troppo smog in città, stop alle auto vecchie, tutto questo a Pescara. Poi sempre a Pescara un cane invade l'asse e il traffico va in tilt, panico tra gli automobilisti. Ferito dall'anno, cade da 3 metri con la moto da cross. Finanziamenti a rischio, i soldi del Ponte del Cielo vanno al Teatro Michetti, incontri con i cittadini, sindaco e assessori in tour a Montesilvano. E poi in basso il Buongiorno Abruzzo di Rocco Coletti, sei carabinieri liberano l'arbitro, cosa accaduta al campo di Rancitelli ieri. Nella pagina dell'Abruzzo si parla appunto dello sciame sismico rilevato nelle ultime ore davanti insomma alle coste abruzzesi, terremoto in mare davanti all'Abruzzo, oltre 20 scosse, la più forte di magnitudo 4.3 è stata avvertita anche sulla costa da Pescara a Vasto. L'esperto, nessuna relazione tra il sisma e le trivelle, il 13 gennaio il referendum in consulta. E poi ancora la campana del Giubileo nella Fonderia dei Papi, Agnone e siamo in Molise. Oggi la presentazione del Sacro Bronzo e domani a nullo filatelico i marinelli. Dal 1300 lavoriamo con la stessa tecnica anche per l'Abruzzo. E poi in basso, Coccia, non sono un razzista, lo scottante commento su Facebook, il fidanzato della Pezzopane non l'ho messa in imbarazzo. Tutto questo per un commento sul blitz antiterrorismo che la scorsa settimana è stato effettuato in un hotel di Montorio, Alvomano. La pagina di Pescara, in questo caso il tema è l'emergenza inquinamento. Le prime misure stop alle auto più vecchie. A partire dal 14 dicembre il Comune è pronto a bloccare l'ingresso in centro dei motori Euro 0, 1 e 2 per ridurre le micropolveri. E dal prossimo anno targhe alterne per tre mesi. In questa tabella, in questo specchietto, tutti i dettagli del piano appunto per il blocco del traffico. Poi l'ordinanza via Aterno da mercoledì a senso unico per i lavori. Panico tra gli automobilisti per un cane sull'asse attrezzato. Tante telefonate al 113 poliziotti hanno impiegato più di due ore per allontanare il pastore tedesco. L'animale terrorizzato all'altezza dell'Iper ha continuato a scappare da una corsia all'altra. Dopo il frontale per il contromano, adesso gli animali vaganti. Tutto questo è accaduto negli ultimi giorni con il tragico scontro di giovedì mattina, di giovedì scorso con il bilancio di due morti. Ieri appunto la presenza di un cane terrorizzato sulle quattro corsie dell'asse attrezzato. I soldi del Ponte del Cielo per rifare il Teatro Michetti. La giunta dà il via al nuovo obiettivo dopo il no al pontile della soprintendenza. Corsa al progetto per salvare i finanziamenti affidati a due incarichi da 66 mila euro. E poi un pontile bocciato. Il comune ricorre al Tar. Avanti con l'inaugurazione di ieri di America Graffiti. Presto altre dieci assunzioni in centinaia all'evento anni 50 della tavola calda americana nell'ex bar Camplone. Uno dei soci. Finora 600 clienti al giorno. Se continua così faremo più turni. Queste sono alcune foto della giornata inaugurale di ieri. In basso è al Flaiano la festa dei volontari. Affollata cerimonia al Flaiano premiata dalle associazioni Lilt, Aism e Avuls. Sindaco è giunta, qui siamo a Montezilvano, in tour per la città. In via Marco Polo, primo incontro e nuove promesse ai residenti. Più segnaletica. Adalanno cade dalla moto da cross. Paura Adalanno, motociclista a soccorso dall'elicottero del 118. Pagina di Chieti. Voglio finanziare l'apertura del tunnel. Il presidente della Camera di Commercio svela i progetti che faranno rinascere la città. Dovete riacquistare l'orgoglio. Queste le parole di Roberto Di Vincenzo. L'ascensore incompiuto e al primo posto della lista degli interventi daremo un contributo significativo. Aiuteremo anche la nascita di nuovi negozi. Salvato a Fossacesi e a bambino di 15 giorni rischia di morire soffocato. In basso, carichietti per il PM, nessun reato. I rapporti ispettivi sulla malagestio finiscono nel limbo delle non inchieste. E poi il disastro della Trignina. Vedete questa foto con il governatore D'Alfonso. Vasto D'Alfonso sul luogo del crollo. Ha subito promesso, leggiamo nella Diascaria, nuovi finanziamenti. Il governatore Luciano D'Alfonso, che ieri mattina ha voluto vedere con i propri occhi i disastri causati dal nubifragio del 27 novembre nel Vastese. Cioè i crolli che hanno bloccato la Trignina. Pagina dell'Aquila. Soldi in fumo, le azioni in campo. Banca Etruria, la carica dei mille clienti beffati. Nasce il comitato dei risparmiatori che hanno visto svanire i loro risparmi. Pronti ricorsi civili e penali. Ma si confida nell'intervento del governo. Il dibattito sul parco della memoria, Cialente, donare come portare un fiore alle vittime. Il sindaco risponde ai familiari contrari alla colletta. Sarebbe bello se chi si è salvato desse qualcosa per ricordare per sempre chi non c'è più. E poi, problemi sempre legati all'occupazione. Ex Italfinici, licenziati i 12 operai. Provvedimento senza preavviso. L'avvertenza sul tavolo Lolli. Tutto questo nell'azienda di Capestrano, nell'Aquilano. Pagina di Ictus. A Teramo pazienti dalle Marche. La sanità che cambia. In questo caso il tema è la radiologia vascolare. Le due ASL stanno per firmare un accordo. Le trombolisi sui malati di una parte della regione vicina si eseguiranno al Mazzini. Il primario di Egidio, già abbiamo trattato i primi tre casi, è un'intesa importante in quanto contribuisce a invertire il flusso di mobilità passiva. Chiude il Day Hospital di Endocrinologia. Ad Atre il reparto che attira pazienti da tutta Italia e dall'estero è rimasto con il primario e un solo medico. In basso, escursione a rischio su Gran Sasso e Laga. L'arme della guida alpina Iannetti, col nuovo piano dell'ente parco, potrà vietare l'accesso in ampie zone. Prima pagina che ora andiamo a vedere del messaggero Abruzzo, banda del Bancomat, colpo a vuoto. Teramo con l'auto a riete dentro il centro Gran Sasso, provano a sfondare lo sportello Carichieti, cinque assalti a marcia indietro, poi alcuni operei al lavoro nel megastore fanno scappare i banditi. All'anno, il motociclista resta ferito nell'esibizione, poi sotto la pestata, intanto si torna a parlare del caso della scomparsa del fotografo Valerio De Torre. L'inverno cancella le ultime speranze di poter ritrovare Valerio De Torre. La storia di Francesco Sarri, Allegri e gli altri, i grandi mister sfornati da Pescara. Calcio e basket, il Teramo cade a Lucca, Proger quinto K.O. di fila, in serie D, Chieti, Paria Recanati, Giulianova trafitta dal campo basso, botta e risposta su rigore nel derby di Scoppito, San Nicolò ancora al tappeto. Di spalla Raffaele e quel corso di italiano a Gagliano, abruzzesi nel mondo, 30 giovani dalla Wayne University ogni anno all'Aquila per imparare la lingua. A proposito di l'Aquila, Fontana Luminosa si ferma il project, parere negativo dei dirigenti, Lira di Cialente. Sciame sismico, epicentro a largo della costa, una ventina di scosse, la più forte di 4.3 Richter, ma nessun danno, paura, ma nessun danno. Poi in basso, strage dell'Immacolata, il forziere di Hitler bombardato nel 43. All'interno del messaggero Abruzzo, come abbiamo visto dalla fotonotizia, in prima pagina Fontana Luminosa ha bocciato il progetto, i dirigenti comunali, non è utile, tensione con Cialente, un intervento pubblico-privato da 11 milioni di euro che prevede parcheggi sotterranei e negozi. Lira del sindaco sulla De Paulis, seguito un iter piuttosto inconsueto, valutazioni politiche inopportune. Offensiva contro i furti, tre persone denunciate sono accusati di aver rubato a Media World. E poi in basso, alla riscoperta dei tesori di San Pietro, apprezzato Minitour nello storico quarto. In Marsica, Avezzano, parcheggi gratuiti, non all'isola pedonale. L'assessore annuncia il provvedimento, l'opposizione accetta, verrecchia, dunque nessuno vuole il centro senza automobili. Il ticket abolito per tutti, fino ai primi giorni dell'anno nuovo. Il commercio ne trarrà ragionamento, soluzione equilibrata. Avanti nella pagina di Pescara, dissesto evitato grazie al lodo, le motivazioni della decisione della Corte dei Conti sul caso Pescara. Gravi responsabilità del centrodestra a spalmare il disavanzo su 28 anni anziché 10 è stata la chiave vincente. Il criterio fa scuola, l'Anci ha chiesto di applicarlo ai comuni a rischio di tracollo per poter accedere al piano di riequilibrio. In basso, in festa, l'esercito dei volontari al Flaiano Passarella per le associazioni coordinate dal centro servizi del volontariato, riconoscimenti speciali alla Lilt, l'Aism e l'Avuls di Popoli. L'impegno quotidiano di 887 sigle diverse. Valerio, l'inverno cancella la speranza, siamo nella pagina di Chieti. Due mesi fa l'ultimo avvistamento di Valerio De Torre sulla Maiella, se si trovava lì non è sopravvissuto. Trignina, lavori al via, gli impegni della regione d'Alfonso e Pupillo guidano il sopralluogo sulla strada franata. Precedenza, gli interventi sulla provinciale 187, unica alternativa per la mobilità della vallata. Poi, pagina di Teramo, la banda del Bancomat messa in fuga dagli operai. I malviventi tentano il coppo grosso al centro Gran Sasso. Sfondato il portone dell'ingresso di emergenza, preso di mera lo sportello della Carichieti. Poi a Giulianova, a Stadio Fadini, a Gibile, sindaco e dirigente nei guai. Mercoledì, Mastromauro e Sisino in tribunale. Ordinanze contestate. Lasciamo il messaggero e andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Poi faremo il nostro break meteo con Giovanni De Palma. La prima pagina della Gazzetta dello Sport ci fa aprire di conseguenza l'ampia parentesi dedicata allo sport e c'è questa apertura della Gazzetta Scudetto da capogiro. Un destro spacca Napoli, rabbia Sarri. Ora la Roma, gara verità. La Fiorentina ricomincia da tre con Kalinic-Ilicic e torna seconda. Come corre sulle punte questa Juve? È già a meno sei. E poi il bunker Inter è primo, ma solo guai per Icardi. L'analisi di Luigi Garnando, un cielo aperto, ma non per tutti. Piccolo Milan sotto la testata. Solo un pareggino col Carpi. La zona Champions s'allontana. I rossoneri combinano poco e fanno fare un figurone agli emiliani. Zero a zero. Mihailovic, il peggio deve arrivare. Atmosfera strana intorno a noi. Colpo Sassuolo. Crisi Montella. Atalanta dà record al settimo posto. E poi in basso, europei in Vasca Corta. Italia, superpotenza del nuoto. Orsi Show domina i cento stile. Trascina a loro la 4 per 50 mista. Le storie da non perdere. Negato un gol regolare, il calio è rifrenato. Lascia la vetta della B. Schi è una supervon e a quota 70 vittorie. Anche Hirscher vola. Andiamo a salutare e dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Ciao Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Le ultime sul meteo. Diciamo che rispetto ai giorni scorsi, la vasta struttura di alta avversione, che ormai da oltre una settimana favorisce condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, inizia ad avere qualche timido segnale di cedimento. Infatti sulla Sardegna è nato un peggioramento favorito dall'arrivo di masse d'aria umida di origine atlantica che stanno dando luogo a delle formazioni temporalesche, soprattutto sulla Sardegna e sul terreno centrale. Ora questa situazione gradualmente tenderà, tendrà pur in attenuazione, a spostarsi verso le nostre regioni centro-settentrionali e di conseguenza potrà favorire anche un aumento della nuvolosità sulla nostra regione, soprattutto nella giornata di domani. Nuvolosità che potrà dar luogo localmente a qualche precipitazione, soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose. Quindi sarà una festività un po' disturbata dalla nuvolosità, perché l'alta pressione è in attenuazione. Torneranno le nebbi invece a manifestarsi durante le ore più fredde della giornata, soprattutto nelle pianure e nelle valli. Poi c'è da segnalare, Andrea invece, un probabile disturbo, un peggioramento, insomma un po' azzardato chiamarlo peggioramento, ma comunque un disturbo previsto tra mercoledì e giovedì, perché transiterà un sistema nuvoloso sulle regioni adriatiche e quindi ci sarà spazio ad annuvolamenti localmente a delle precipitazioni. Poi successivamente, ma qui poi dovremmo necessariamente confermare un po' questa tendenza, sembra possibile l'arrivo di una perturbazione un po' più decisa, un po' più consistente nel fine settimana, perturbazione che scivolerà sulle regioni nord-orientali e verso la nostra regione. Poi bisogna vedere un po' se la traiettoria sarà confermata. Comunque l'alta pressione ancora, anche se in attenuazione, continuerà comunque a tenere lontane le perturbazioni, le intense perturbazioni che attualmente scorrono sono latitudini più settentrionali, quindi non ci saranno sostanziali variazioni se non qualche disturbo tra domani e comunque entro la giornata di venerdì. Andrea. Senti, quanta rabbia per il tifoso Giovanni De Palma sabato pomeriggio. Ma tanta, tanta, perché è una partita che sul 2-0, vabbè poi ci sono stati degli episodi, degli episodi che hanno un po' diciamo penalizzato la partita per il Pescara, perché sul 2-0 poi c'è stata un po' l'infortunio di Fiorillo che ha riaperto la gara, ma poi l'errore arbitrale, la sfortuna, i palli, le traversi. Insomma, io non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi se non, diciamo, il fatto che non hanno portato a casa gli altri due punti. Ecco, questo vuol dire perché non posso, non mi sento di condannare assolutamente questa squadra perché ha giocato e ha praticamente chiuso lo special, diciamo, nella propria metà campo. Le due occasioni che ha avuto lo special le ha sfruttate nella maniera migliore. migliore, purtroppo per noi. Poi vabbè, poi ci sono anche gli errori degli arbitri, ma ci può stare l'errore arbitrale, per l'amor di Dio. Quindi, tanta sfortuna, ma penso che comunque se Pescara questa mentalità e questa voglia di far bene, credo che comunque farà molto meglio, molto meglio nelle prossime gare, a partire da domani sera, Andrea. Grazie, ti ringrazio Giovanni, ti auguro un buon lunedì. Grazie, grazie Andrea, un buon lunedì anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma. Proseguiamo con la nostra rassegna. Pagina 2 e pagina 3 della Gazzetta. Zero assoluto, che fatica questo Vina, il piccolo Carpi fa un figurone. La crisi, bacca l'attacco, un mese di digiuno e senza i gol di Carlos, dimagrisce la classifica. La pagina sul Napoli, o meglio, le pagine sul Napoli, che destro sulla faccia del Napoli. Festa Bologna, Donadoni dilaga con una doppietta dell'attaccante, Rossettini, il solito grande Higuain, due gol, stavolta non basta. Sì, Mattia è tornato, non solo il Pipita, però punto all'Italia. E' lui il protagonista della vittoria del Bologna, sull'ex capolista. Sarri Duro critica l'arbitro, critica il Napoli e l'arbitro, approccio molle, ma il fuorigioco, puntini, puntini. Fiorentina in festa, travolta l'Udinese, c'è solo l'Inter davanti al Sogno, e poi Kalinic, il gol è un brivido, lo stadio resta in silenzio, ma con la Juve ci sarà. L'Inter, Miranda è la difesa da primato, è Joao Meravigliau, però dall'altra parte, Icardi, momento no, pure rapinato in centro. Dopo la partita con il Genoa, era con la moglie Wanda, aggredito e derubato di un orologio da 40.000 euro. La signora ora danza bene sulle punte, il riferimento alle prestazioni di Di Vala e Mangiughi, c'è in basso Bonucci, vogliamo solo il primo posto. Poi la crisi della Roma, Roma tutti al rapporto, Garzia poco carattere, pallotta insoddisfatto. Salah accelera e insegue il bate, Bate cerche il recupero l'egiziano in vista della gara decisiva per il passaggio del turno in Champions. Andiamo a vedere la pagina della B e della Lega Pro. Il Cagliari inciampa, brividi e rabbia, Como preso al 92esimo, segna Ganza, l'arbitro non vede un gol regolare, Joao Pedro rimedia, pari casalingo dopo otto vittorie. 1-1 tra Cagliari e Como, Vicenza che fatica in casa, regge il muro di torrente, finisce 0-0 tra Vicenza e Salernitana. Pagina della Lega Pro, con la sconfitta del Teramo a Lucca, la Lucchese sa rimontare, va sotto contro il Teramo e poi dilaga nella ripresa. 3-1, migliori in campo Fanucchi, secondo la Gazzetta, voto 7,5, voti bassi invece, per quel che concerne il Teramo, al massimo. Ci sono alcuni 6, tra cui quello dell'autore del gol del vantaggio commentaneo, ovvero l'attaccante Moreo. Ancora avanti con la Gazzetta, il nuoto, europeo in Varscacorta, Orsi è un bomber d'oro, l'Italia è una superpotenza, conquista di 100 stile libero, e trascina la 4 per 50, mista al Trionfora. Sono pronto per i pesi massimi, gli azzurri chiudono secondi nel medagliere. E poi ancora per il basket, c'era il big match ieri tra Reggio Emilia e Milano, urlo Reggio Emilia, Milano si piega all'instant replay, sul libero di Ale Gentile, tapine di Hummel, a tempo scaduto. Menetti, ora siamo in ritmo, teniavolo, vittoria 74-72 di Reggio Emilia. Andiamo ora a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport, ci prendiamo qualche altro minuto prima di andare in pubblicità, così esauriamo anche la parentesi legata alle testate nazionali. C'è una notizia di mercato a farla da padrone nell'apertura del Corriere dello Sport. Juve, c'è Guarin, clamoroso retroscena, il colombiano per lo scudetto, Marotta e Allegra hanno deciso di tornare all'assalto con l'Inter, costa 11 milioni e l'ideale per il campionato è per la Champions. l'opinione di Alessandro Vocalelli sempre più nel segno dei tecnici. Napoli fermato, sorpasso Viola, il Bologna, doppietta di destro, Gela Sarri, Guain fa due gol nel finale ma non basta. 3-2 Fiorentina da urlo, 3-0 di sede seconda, Milan troppo poco, 0-0 in casa Carpi, Montella al terzo KO, Palermo travolto, Ballardini in uscita, Iachini è pronto. E poi in basso posticipi, 1-1 rosso-blu col Como, gol fantasma, Cagliari furioso, rete valida, negata a Sau, Sainitana 0-0 col Vicenza. Tutto questo appunto poi all'interno del Corriere dello Sport, Serie A, show, al campionato gira la testa, al comando si sono già alternate in 4 e la Juve è tornata, corsa, Scudetto, apertissima, in basso si fa il punto sugli altri campionati esteri, Paris Saint-Germain e Bayern hanno già preso il volo rispettivamente in Francia e in Germania. Scorriamo avanti con la pagina sul Napoli da 3-0 a 3-2 Higuain, Maé, Tardi, Azzurri per un'ora in balia di un bel Bologna, destro doppietta, Pipita, due gol negli ultimi 5 minuti. Avanti per vedere le pagine del Minors, passando prima però per la notizia d'apertura data dal Corriere dello Sport con questo che sarebbe un risorno di fiamma per Guarin da parte della Juventus e poi un grande buffone il segreto bianconero mentre sul fronte Inter super gli Aic la rinascita dell'escluso, Icardi-Shock minacciato e rapinato la la rabbia del Cagliari che pareggia e urla negato un gol regolare in basso il Vicenza e la Salernitana non si fanno del male e poi dovrebbe esserci anche la pagina con il Teramo eccola qui il Teramo cade a Lucca appunto 3 a 1 tanti voti alti sul fronte lucchese voti medio-bassi nel Teramo i voti migliori per Cenciarelli Moreo e Petrella che prendono 6 e mezzo ci fermiamo andiamo in pubblicità poi rientriamo con le pagine sportive di Centro e Messaggero e vedendo anche diversi servizi eccoci eccoci rientrati di nuovo buongiorno seconda parte di mattino 6 inserto noi di sport per proseguire la nostra rassegna Pescara e Lanciano rialzatevi domani e mercoledì di nuovo in campo per cancellare gli ultimi risultati deludenti e poi basket di A2 project sconfitta anche in casa la crisi diventa preoccupante serie B sempre di basket il campo fa suo il derby e vola Ortona sinchina al Sansevero calcio a 5 la favola del Montesimano matricola campione d'inverno Lega Pro il Teramo in trasferta è un colabrodo e poi per i direttanti Serie D Amiternina Avezzano botta e risposta il Chieti non vince più eccellenza ma insicuro perde terreno dalle prime colpo dell'alba promozione Mutignano si sgonfia e la Virtus Teramo festeggia la vetta e poi questa notizia è già riportata in prima pagina tensioni e risse domenica nera tra i direttanti a Montazzoli e a Pescara partite sospese per le intemperanze dei tifosi e l'aggressione all'arbitro andiamo a vedere ora la pagina sul Pescara con il commento e l'intervista all'ex DS Biancazzurro Andrea Iaconi Oddo è un valore aggiunto parla il doppio ex il doppio ex di Pescara e Brescia visto che domani c'è lo scontro diretto al Rigamonti tra queste due compagini il DS Giuliese il tecnico è un predestinato e la squadra spiccherà il volo il potenziale è paragonabile a quello del Cagliari e poi fuori lista Grillo presto la mia rivincita tutto questo a un anno esatto dal grave infortunio occorso al difensore lo scorso anno nella gara di Vercelli il baffo del Delfino col commento di Antonio De Leonardis assurdo continuare a farsi del male qui Brescia Boscaglia vuole confermare l'undici di Chiavari vediamo cosa dice invece il messaggero sul momento del Pescara Pescara ora basta sprechi gli errori difensivi cominciano a essere un po' troppi e hanno impedito ai biancazzurri il vero salto di qualità servono progressi sia individuali che collettivi nella gestione delle partite in attesa del mercato per apportare correttivi anche lo scorso anno insomma si parlava di un Pescara che aveva questo problema appunto nella gestione dei risultati e delle partite la padura dobbiamo lavorare su noi stessi dice il bomber il cannoniere della Serie B e del Pescara e domani possibile riposo per Memushai nella gara di Brescia le ripetute ingenuità hanno vanificato una eccellente prestazione offerta sabato contro lo Spezia e proprio nella gara contro lo Spezia c'è stato un protagonista in positivo e in negativo ovvero il difensore Fornasier che da un lato ha segnato la sua prima rete in biancazzurro e dall'altro ha procurato il calcio di rigore del definitivo pareggio nel finale di gara Fornasier il gol in prima in maglia biancazzurra e poi questo episodio nel finale partiamo dalla fine Per me io che ero lì nel campo ho preso prima sono sicuro di aver preso prima la palla poi sono toccato lui ma l'importanza è prendere prima la palla io ho preso la palla quindi poi decisione l'ho presa l'arbitro con l'assistente di linea che non so dov'era però è di girosi molto rammarico ovviamente per questo pareggio sì perché sono altri due punti buttati via letteralmente metti per noi i nostri un'altra volta o no però sono sempre due punti persi una volta noi una volta errori altrui però siamo sempre da capo la gioia di questo primo gol è offuscata da questi episodi del finale dal risultato soprattutto sì a me interessa non prenderli quindi ogni volta si prende gol anche se vinciamo mi rimango sempre con l'amaro in bocca oggi il doppio sempre di più poi pali traversi insomma nel secondo tempo meritavate questo successo sì siamo stati nettamente migliori dello Spezia tutte le parti del campo e un gol regalato e nel tiro in porta fatto hanno preso pareggio ecco meno male che si torna subito in campo martiri per smartire questa rabbia sì dobbiamo stare attenti però perché si va fuori casa e dobbiamo tenere la testa calma di cercare di giocare come abbiamo fatto oggi perché abbiamo fatto una grande partita perché sei uscito così presto dallo spogliatoio ah perché perché è meglio così sono cose di calcio possono succedere sì sì però da fastidio proseguiamo sempre sul messaggero Pescara la fabbrica dei mister Allegri Sarri Giampaolo Di Francesco Mezza Serie A è passata dall'Adriatico l'ex DS Andrea Iaconi Marco è un grande Sarri lo ha studiato detto no a Max ma come Galeone non c'è nessuno e poi a Brescia sarà una sfida spettacolo sempre nelle parole del tecnico Andrea Iaconi Brescia fortissimo tra le muramiche squadra che fa un calcio molto propositivo come del resto il Pescara per questo motivo che dunque si parla di una gara spettacolo nelle aspettative Virtus non c'è tempo per leccarsi le ferite il modo con il quale è maturata la sconfitta a Novara lascia ancora perplessi sui social i tifosi chiedono la testa di D'Aversa ma servono rinforzi per salvarsi i portieri Aridità e Casadei finora non hanno convinto manca un difensore alla Tröst e fatica la mediana e poi il pari del Como complica la sfida con la corazza da Cagliari perché il Cagliari che arriverà a Lanciano sarà una squadra molto arrabbiata per questo pareggio e anche per la precedente sconfitta subita a Brescia con peraltro l'infortunio del capitano Odessena che sarà fuori fino alla fine della stagione torniamo al centro per appunto vedere il titolo sul Lanciano il Lanciano in emergenza nel momento più difficile mercoledì al Biondi i rossoneri chiamati al riscatto contro la corazza da Cagliari ma i problemi restano uomini contati a centrocampo e tifosi scontenti infatti contro il Cagliari tra le altre cose mancheranno Dicecco e Bacinovic entrambi squalificati e poi bisogna valutare le condizioni di Zeduardo che è uscito nel corso del primo tempo della gara di Novara la Marcord di Lanciano Cagliari quella trasferta col Maldimare sfida che torna dopo 86 anni qui c'è una immagine di una sfida tra Cagliari e Lanciano giocata nel 1929 addirittura i problemi di Rosso Blu e siamo in Lega Pro Battisti non ci sta l'Aquila basta farsi male da sola la squadra oggi a lavoro sabato al fattore Cerrimini mercoledì presentazione del calendario Rosso Blu 2016 in basso si parla di calcio a 5 Montesilvano una favola calcio a 5 di Serie A i numeri dei campioni d'inverno e poi la due pagine sul Teramo Teramo a Lucca un altro tonfo illusorio il vantaggio di Moreo i toscani pareggiano subito e prendono il largo nella ripresa l'atteggiamento dei Biancorossi apparso troppo molle rinuncetario fin dai primi minuti grave errore di Dorazio sul rigore del 2-1 inutile l'assalto finale con gli ingressi di Le Noci e di Da Silva le pagelle tante insufficienze la più marcata per Dorazio e Le Noci prendono 5 il migliore è Moreo autore di un pregevole gol quello dell'illusorio vantaggio 6 e mezzo per Moreo e poi le voci frattura tra società e tecnico Campitelli pensa all'esonero e in questo senso sarà decisiva quasi certamente la gara di sabato contro la Pistoiese Vivarini il rigore non c'era ma bisogna dare di più gli episodi ci sono contro per salvarci dobbiamo migliorare le prestazioni ora restiamo calmi e tranquilli il campionato è equilibrato e si può recuperare vediamo anche il messaggero sulla partita del Teramo poi andremo a vedere il servizio della partita fuori casa il Teramo non c'è Biancorossi sconfitti anche a Lucca 3 a 1 dopo il vantaggio di Moreo in avvio contestato il rigore del sorpasso difesa troppo allegra nei momenti clou la classifica preoccupa e zona play out parla l'amministratore delegato Daniello contro la Pistoiese non possiamo più sbagliare e questo sembra appunto un avvertimento nei confronti del tecnico non ci aspettavamo questa sconfitta in attacco stessi gol dell'anno scorso in difesa le cose non girano Vivarini momento no non dobbiamo abbatterci sul fronte delle delle pagelle anche qui tante insufficienze i migliori sono da Silva Amadio Cenciarelli e Moreo anche Caidi che prendono uno stream in sito 6 allora è il momento di vedere il servizio proprio della sconfitta del Teramo al Porta Elisa il Teramo non guarisce dal mal di trasferta e torna ancora a mani vuote da una gara lontana dal Bonolis per la precisione la sesta volta a nutrirsi ora dei mali dei Biancorossi e la non irresistibile Lucchese che effettua il controsorpasso in classifica e dire che il tecnico Vivarini si è affidato inizio gara allo stesso 11 di partenza risultato vincente sul Siena quindi con Caidi Dorazio Altobello trio difensivo e capitane Speranza e il rientrante per Rotta in panchina l'approccio della partita della Lucchese è buono e il Teramo deve guardarsi le spalle dall'iniziativa degli uomini di Lopez non in panchina perché squalificato per due giornate Nolè è pericoloso in due circostanze in particolare sulla seconda e il compagno Benvenga a salvare involontariamente la porta del Teramo l'avvio rabbioso dei Toscani si soppisce dopo la conclusione sopra la traversa di Marchesi il Teramo si rende pericoloso con la bella giocata di Paolucci che gira al volo il cross di Paolo Antonio corretto e prolungato da Moreo blocca Di Masi il finale di tempo condizionerà il resto della partita al 45esimo il Teramo passa in vantaggio con un gran gol di Moreo Cenciarelli recupera palle serve l'aereone Teramano che dribbla e specie fa partire un destro di pregevole fattura potente e preciso all'incrocio imparabile per Di Masi ci sarebbero le condizioni perché il diavolo vada all'intervallo in vantaggio ma non è così durante il recupero Caidi rinvia e lascia lì un pallone da Fanucchi che controlla elude Altobello e con un diagonale all'apparenza non irresistibile fa secco Tonti 1 a 1 che è una mazzata per i biancorossi ed il peggio deve ancora arrivare si immaterializza all'inizio ripresa su una palla pizzicata da Fanucchi Dorazio tenta il rinvio ma viene bruciato da Monacizzo contatto tra i due che per schirro di Michelino è meritevole di calcio di rigore tra le proteste dell'11 biancorosso negli 11 metri la trasformazione di Terrani è perfetta e in poco tempo il ribaltamento di risultato è servito il nervosismo tradisce il Teramo il tecnico Vimarini viene spedito negli spogliatoi per proteste entrano Calbano e Lenoci per Paolucci e Cenciarelli ma la mossa vincente arriva dalla panchina della Lucchese entra l'ex aquilano Pozzebon che al diciannovesimo triplica e chiude i conti sul cross di Nolè si avventa proprio Pozzebon aiutato dalla deviazione di Altobello che spiazza Tonti 3 a 1 è partita che il Teramo non riesce più a riaprire nonostante l'ingresso di Da Silva che comunque impegna Di Masi con una conclusione centrale più impegnativo l'intervento dell'estremo Toscano su Moreo che va vicino alla personale doppietta che avrebbe regalato più patos al finale non è così e alla fine i numeri dicono che penalizzazione o no la difesa del Teramo con 20 gol al passivo è la seconda peggiore del torneo numero impietoso e che aiuta a spiegare dove siano i problemi più grossi del Teramo al di là di tutto il resto e ora si chiederà al Bonolis il nuovo scatto in più per non complicare ulteriormente la classifica sul messaggero l'Aquila rinforzi in arrivo prima del processo Dirty Soccer Pesoli del Pescara trattativa sempre aperta e c'è l'idea Sansovini poi scendiamo in Serie D sempre con il messaggero Chieti massimo gol evita il K.O. Beffa Recanati finisce 1-1 il pareggio non fa decollare i neroverdi come negli auspici erroraccio di Ewan Sica permette ai leopardiani il vantaggio con l'ex di turno Miani Fatone decisivo nei minuti finali salve risultato su Sciongo organico ridotto ai minimi termini il Giulianova invece si arrende a un campo basso cinico le parole degli allenatori per Canatese Chieti Ronci vede positivo bicchiere mezzo pieno per il Chieti invece sul fronte Giulianova sconfitto col Campopasso dice Tortorici troppi errori Giglio resta in stand by Tortorici che ieri ha sostituito in panchina lo squalificato Francesco Giorgini allora andiamo a vedere proprio i servizi relativi al pareggio tra Recanatese e Chieti e poi subito dopo la sconfitta casalinga del Giulianova col Campopasso solo un pareggio per il Chieti a Recanati in una gara combattuta che ha visto comunque una squadra volitiva e che ha profuso tutte le energie per cercare di conquistare l'intera posta al cospetto di una Recanatese che si è dimostrato un osso duro per la squadra del presidente Giorgio Pomponi è un pareggio che soddisfa poco che lascia l'amaro in bocca e la squadra nel limbo di metà classifica in attesa di una settimana l'ennesima che potrebbe regalare altre sorprese prima della gara a prensione per un leggero malore occorso ad un tifoso teatino al terzo la prima emozione di marca locale con una conclusione a scendere i dici anni che sfiora la traversa con Fatone però sulla traiettoria il Chieti spinge ma sono i marchigiani a rendersi ancora pericolosi all'undicesimo con il Bomber Miani che allarga troppo il compasso mandando la sfera di pochissimo a lato la squadra di Donato Ronci appare volitiva ma dopo una settimana particolare la tensione è palpabile al diciassettesimo c'è un mezzo pasticcio fra Vitale e Fatone con la palla che finisce in calcio d'angolo al diciannovesimo si vede per la prima volta la squadra teatina con un tiro dai 25 metri di Dos Santos fuori misura i ragazzi di Ronci ci credono e al ventinovesimo è Bocchino con un tiro angolato a chiamare alla parata a terra Verdicchio ma l'occasione più pericolosa dei Neroverdi arriva al trentaduesimo quando ancora Dos Santos in area tira a botta sicura trovando la respinta miracolosa di Falco il Chieti gioca Sprazzi al quarantatresimo e Evansia a chiamare al miracolo Verdicchio che respinge quasi distinto l'avvio di ripresa è però amaro per gli abruzzesi al sesto la Recanatese si rende infatti pericolosissima con un colpo di testa di Falco a due passi da Fatone che respinge distinto il portiere ospite non può nulla però al settimo con il vantaggio griffato Damiani che è servito da Garzia con un pallonetto batte l'estremo Neroverde il Chieti non ci sta reagisce con un tiro dalla distanza di Bocchino al nono minuto e con la respinta di Verdicchio passa qualche secondo e al decimo il Chieti chiede un rigore per un sospetto contatto in area marchigiana ai danni di Dos Santos Verdicchio protagonista un attimo dopo quando respinge una concussione di Varone in calcio d'angolo la gara ora non regala un attimo di respiro e così al quarto d'ora arriva il pari di Massimo con una deviazione probabilmente di Patrizzi che inganna il proprio portiere la gara resta equilibrate alla mezz'ora c'è una buona opportunità per il neoentrato Latini della Recanatese che chiama al salvataggio Fatone il finale di match vede attacchi dall'una e dall'altra parte con al 41esimo un occasionissima per i padroni di casa sugli sviluppi di un angolo di Cianni con Sciongo che in mischia non riesce a trovare il barco giusto dopo tre minuti di recupero arriva alla fine con i giocatori del Chieti al rapporto dai tifosi tutt'altro che contenti della prova della squadra nonostante gli ultimi arrivi il Giulianova deve rendersi ad un campo basso mai così operaio in questa stagione come si è visto oggi al Fadini e dire che Giallorossi senza Giorgini squalificato nel corso dei 90 minuti e più hanno dato spazio a tutti i nuovi innesti quelli che dovrebbero rilanciare le speranze di una salvezza difficile ma non impossibile senza Bucchi e Censori che hanno rescisso in settimana i molisani ridimensionati la gara esterna l'approcciano bene anche se il Giulianova parte meglio Di Stefano all'ottavo gira verso Capuano di testa senza impegnare l'estremo ospite non scalfito nemmeno dal sinistro a giro di Pellecchia al dodicesimo ma i molisani salgono di livello e la ripartenza di Todino al quarto d'ora sarebbe letale se sul suo passaggio Alessandro impattasse il pallone invece di Ciccarlo clamorosamente il campo basso c'è e si vede al venticinquesimo il diagonale di Orlando Aquino impegna Orsini alla risposta che tuttavia diventa un assist proprio per Todino porta spalancata e tappin facile facile per il numero 10 rosso-blu la riscossa anche se non proprio ovviamente del Giulianova passa per Emili che tra il 32esimo e il 34esimo prima non trova la porta poi è murato dalla coppia centrale Gattari-Ferrani in maniera disperata fine primo tempo con i molisani che raddoppiano con Alessandro ma con Aquino in fuorigioco l'assistente De Chirico si accorge che la punta disturba Orsini e annulla giustamente la rete Giulianova che nel finale di tempo protesta per un fallo in area di Lenoci su Pellecchia l'esterno cade a terra ma Santoro rileva la simulazione dell'ultimo arrivato e lo ammonisce nella ripresa entra Alessandroni per uno spento Marzucco Giulianova a trazione decisamente anteriore ma la reazione proprio non arriva anzi al 54esimo Todino partito in posizione dubbia spara centrale su Orsini 4 minuti e Valentini trova a centro area la Voleda ottima posizione di Aquino violenta ma a lato la sveglia quando mancano 9 minuti al termine prova a suonarla Silvestri destro dalla distanza che non fa male a Capuano esattamente come il mancino di prima intenzione di Pellecchio all'83esimo nel campo basso intanto è rientrato Fiore per Alessandro col Vastese che va vicino al super gol a due dalla fine direttamente da calcio d'angolo parabola arcuata che si stampa sul palo finale con nuove proteste giallorosse per l'intervento quanto meno scomposto di Capuano su Di Stefano che Santoro però giudica ancora una volta regolare finisce 0-1 dunque le due squadre sembrano ancora un cantiere aperto ma il Giulianova presto potrà contare anche su qualche nuovo innesto perché per quanto difficile possa sembrare in casa giallorossa alla salvezza credono davvero Riprendiamo con il centro serie D derby pareggio di rigore due penalti alla Midernina uno sbagliato e uno all'Avezzano partita indecisa dagli 11 metri i giallorossi recriminano per l'occasione mancata Angelone prestazione buona ci manca l'esperienza Gallese che sostituiva lo squalificato Lucarelli gara equilibrata poi il punto Samb avanti forza 5 ieri vittoria della Samb al Riviera delle Palme 5 a 2 sulla malcapitata Olimpia agnonese il Chieti come abbiamo visto esce in dende dal campo della Re Canatese rimonta dei Neroverdi grazie ad un'autorete 1 a 1 e poi Giulianova ancora giù nonostante i rinforzi Alfadini passa il campo basso con una marcatura di Todino a metà primo tempo protesta per un mancato penalty su Di Stefano Tortorici bene per l'impegno San Nicolo a picco prosegue la serie negativa non basta il ritorno di Chiacchiarelli Aiesi decide una rete di Trudo appena due punti in cinque gare andiamo a vedere il derby abruzzese tra Amiternina e Avezzano una partita che si è conclusa sull'1 a 1 con due reti su calcio di rigore un rigore fallito anche dalla Amiternina sullo 0 a 0 pareggio di rigore 1 a 1 tra Amiternina e Lavezzano probabilmente la divisione della posta va stretta ai giallorossi scoppitani visto che Torbidone si è fatto parare un calcio di rigore sullo 0 a 0 e poi nel finale del primo tempo Davino avrebbe parato il tiro di D'Alessandris quando la palla aveva già superato la linea di porta per la cronaca all'undicesimo Amiternina conquista un calcio di rigore Di Aie colpisce con un braccio la punizione dal limite di Torbidone sul dischetto si presenta lo stesso Torbidone ma il suo tiro è deviato in angolo da Davino al ventesimo ancora la Amiternina con Terriaca che sfiora il palo al ventiduesimo si vede Lavezzano uscita avventata di schina ma il pallonetto di Bittai non ha fortuna perché Di Ciccio è bravo a liberare al trentasettesimo l'arbitro concede il calcio di rigore a Lavezzano per l'atterramento in area di Bittai ad opera di Gizzi Bisegna realizza il primo tempo si chiude con un giallo in area marsicana il tiro di D'Alessandris viene parato da Davino quando la palla ha superato la linea di porta per l'arbitro non è gol nella ripresa la Amiternina conquista un altro rigore al quinto per un fallo di Felli questa volta Torbidone non sbaglia al ventottesimo la Amiternina perde uno dei suoi migliori giocatori Petrone si infortuna alla spalla e viene sostituito da Franco al trentaseiesimo Lavezzano si rende pericoloso con un colpo di testa di Iommetti su cross di Bisegna la Amiternina crea qualche grattacapa agli ospiti al quarantunesimo ma il colpo di testa di Terriaca è debole proseguiamo con la nostra rassegna ormai siamo alle battute finali parliamo sulle pagine del centro di eccellenza esplode Tarquini la vastese va l'attaccante dopo 700 minuti di digiuno firma una tripletta nel poker della capolista al Sambuceto 4 a 1 assegno anche Iaboni mentre la rete della bandiera per la formazione di Grillo è firmata da Mainella il paterno non fa sconti neppure al Miglianico la capolista cala il tris con Paris Miciche e Pendenza prosegue dunque il duello in vetta tra Paterno e Vastese per il basket basket di A2 Chieti e Allarme Rosso quinto cappato di fila la Proger non sfigura ma nell'ultima frazione del match accusa un calo fisico e il Re Canati ne approfitta vittoria 62 a 69 per i marchigiani non bastano i 17 punti di Lirov e i 16 di Armwood per la Proger c'è Lawson a menare le danze per Re Canati 25 punti 20 dell'ex Sollazzo momento difficile ma ripartiremo le parole di Coach Galli intanto c'è il super momento del Roseto pocherissimo calato a Iesi venerdì sera Allen una scommessa vinta per il Roseto dopo i 37 punti segnati a Iesi il giovane americano e il capocannoniere del campionato in Serie B c'erano due derby ieri punti al Campi gli applausi al Pescara il derby lo vincono i Farnesi quinto successo di fila Malavatori sfiori il colpo anche con tante assenze e Millina si arrabbia salve Emini elogi ai miei ragazzi 67 a 60 la vittoria di Campi sull'amatori Pescara la Wir paga caro gli errori nel finale la Wir Ortona ma Ortona passa il Sansevero che riesce a rimontare nell'ultima frazione vittoria dei Pugliesi 63 a 69 invece sabato si era giocato il derby con la vittoria del Giulianova sul Vasto Francani nei momenti difficili la squadra ha dato tutto Francani coach di Giulianova la BCC Vasto deve tornare sul mercato arriverà una guardia e forse un lungo ma ora è difficile trovare dei buoni giocatori lasciamo il centro andiamo a chiudere col messaggero con le ultime pagine di sport per il basket Roseto sogna in grande con le sue torri gemelle Brian e Borra dominatori dell'area in attacco in difesa e si integrano perfettamente con la squadra di Trullo dietro i successi il segreto dell'alternanza tra i due centri al resto pensano Allen e gli altri Proger altro KO con Recanati ora è proprio crisi quinto stop di fila il secondo in casa per la squadra di Galli Lilo si aggiudica il derby con l'amatori per il calcio di eccellenza Vastese vola Tarquini Tris con due gol per tempo partita senza storia per la capolista contro il Sambuceto sempre in testa a braccetto con il Paterno che prosegue la sua cavalcata questa è la classifica Vastese e Paterno 35 hanno fatto ormai il vuoto sulle altre squadre con Pineto e Martinsicuro al terzo posto con 28 punti ma sarà probabilmente duello fino alla fine tra Vastese e Paterno dopo che il Paterno lo scorso anno ha perso il campionato all'ultimo all'ultimo minuto possiamo fermarci qui io vi ricordo gli appuntamenti odierni con il TG6 delle 14 19 e 23 e poi alle 21 replay di Enrico Rocchi sarà un replay non solo di commento dopo il pareggio Beffa con lo Spezia ma un replay anche di anteprima un replay pre-partita visto che domani alle 18.30 il Pescara sfiderà il Brescia e oggi alle 12 c'è anche la conferenza stampa del tecnico Biancazzurro Massimo Oddo grazie a Gianni D'Areo in regia e a voi che ci avete seguito in questa mattinata buona giornata grazie a tutti 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 Grazie a tutti.